Testa al Barbetti di Gubbio per un campo basso desideroso di tornare ad alimentare la propria classifica. Si riparte da una condizione di squadra e da uno spirito ritrovati contro la Torres. Da migliorare cosa? La vena realizzativa, quello è certo, ma anche l'equilibrio. I numeri nel calcio non mentono. Due gol fatti in quattro giornate, tutti concentrati in un unico turno. Quattro le reti al passivo. I gol segnati sono gli stessi che ha fatto il prossimo avversario, il Gubbio, che però ha preso solo una rete, quella nel derby di Perugia di domenica scorsa, segnata da Mezzoni. I punti degli Umbri sono otto, quelli dei rosso-blu tre. Braia annuncia continui cambi ad una formazione che sembra avere oggi dei punti fermi, ma che si appresta comunque a disputare da venerdì 20 a domenica 29 tre partite complice il primo turno infrasettimanale stabilito. La volontà del tecnico, ex di turno a Gubbio, dove ha lavorato due anni con ottimi riscontri, potrebbe essere quella di confermare quantomeno l'assetto tattico visto sabato. Una difesa a tre con Benassai-Celesia ed uno fra Calabrese, altro ex Mancini o Bosisio. L'errore di Mancini contro la Torres potrebbe portare a dei cambi di formazione, mentre in mezzo mancherà lo squalificato Baldassin, che potrebbe essere rimpiazzato da uno fra Prezioso o Scorza. Si è visto poco, appena un tempo, bigonzoni per trarre delle valutazioni sul giocatore, mentre sulle corsie laterali Averi scalpita per tornare fra i titolari. Nel tandem offensivo, nei primi quattro turni, Di Nardo è sempre partito titolare. Il tecnico sembra orientato alla conferma di questa soluzione. Il Gubbio viene da due derby di fila contro Ternane e Perugia, da cui ha ottenuto altrettanti pareggi. Nel 3-4-2-1 l'ex Pescara e Monopoli, Cristian Tommassini, è il terminale offensivo di una squadra molto solida in base alle prime uscite, nelle quali pare si sia vinto un po' di vento di scetticismo che si era creato intorno alla figura del nuovo tecnico, l'ex Francavilla, Roberto Taurino. Ad oggi gli Eugubini si candidano a tutti gli effetti per una conferma in zona play-off dopo i due quinti posti consecutivi delle ultime due stagioni. Partita la prevendita anche nella provincia perugina, il Campobasso riceverà il consueto caloroso supporto da parte del pubblico che spera che la tendenza possa essere invertita già da venerdì sera.